Ma che cosa? HAHAHAHA Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video Io mi sto scalcolando Benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online Come vedete sono sempre sveghissimo E mi sa che sono all'interno di una sessione In cui c'è tanta gente che citta Perchè ho aperto un attimo la chat e c'è scritto Oh god mod, mi aggiunge agli amici per favore E quindi non so che cosa sta succedendo di preciso Però oggi andremo a giocare con la base operativa personale Con la roba nuova che abbiamo comprato recentemente Che ci ha permesso di prendere sia il thruster che l'Avenger Perchè dico giocare con la base? Perchè quello che voglio fare è andare su internet In qualche modo E da internet andare su Maze Bank Foreclosure Andare, qual'è quello che ho preso io? Questo qui, la base operativa Faccio modifica E vado su cannone orbitale Che costa un fotto di soldi Costa un milione praticamente Però lo compro E lo acquisto E l'ho comprato E l'ho comprato L'ho comprato Impostiamo la meta tra l'altro Perchè tutte le altre cose che ci sono Ci servono? Domanda? Risposta? No, no, no C'è non mi interessa avere la stanza un po' più carina O le robe così Per l'ufficio ha senso Che comunque ci spawno C'è l'ufficio e tutto quanto Ma in sti posti Ero solo per cazzeggiare praticamente Quindi non mi interessa Quanto è vecchio sta canzone? È incredibile Paraparaparapapapa Sto pensando ragazzi Di buttarmi nel mondo Delle gare su GTA Ehm Come sapete Quando si tratta Di competizioni Se non mi entra proprio la vena Dentro Quella cattiva Non me la cavo Tantissimo Nel senso perché io ho comunque Il gioco per divertirmi E lo so che sembra una cagata Da dire Però è vero E dico ci sono persone Che dico Ma cosa sono i Backstreet Boys? No ragazzi sono i Backstreet Boys questi Perché aveva questa musica La partita all'improvviso sotto I Backstreet Boys Ok ci sono persone Che No ho perso la partita Non la carico Però se è divertente sti cazzi Quale sono il maggior numero di collisioni mancate? Ma che me frega Voglio i Backstreet Boys Andiamo quando sto su Vettino Su in montagna Proprio che non c'è più la neve Altrimenti eravamo bloccati Penso che porterò sul canale Anche dei giochi di macchine Non so se serie Però probabilmente un episodio O qualcosa del genere Su un proprio gioco di macchine Dove c'è magari un po' di esplorazione Una cosa di figo Comunque entriamo all'interno Cannone orbitale Non ho la più minima idea Di cosa si tratti Zero totale La mia diciamo ipotesi è che Con questo canone orbitale Tu hai accesso a degli attacchi aerei Radiocomandati Radiocomandati dalla tua base operativa Quindi vediamo che cosa uscirà fuori Io non lo so Spero che sia divertente E spero soprattutto Che non sia una cagata pazzesca Perché se ho speso un altro milione Per una cagata pazzesca E per questo gioco Io spendo solo soldi Ragazzi Spendo una marea di soldi Ma guarda tra l'altro qui c'è la mia password Che non dovrebbe essere qui E si Come Bella strada per andare negli uffici Di la vero Probabilmente di la dove c'è la doppia porta Eccoci Allora Qua ci sono un paio di uffici Robe che comunque Non ho sbloccato Quindi non posso neanche entrarci Questo dovrebbe essere Cosa del canone orbitale Dov'è il canone orbitale? Voglio un canone orbitale Ciao amici Vorrei un canone orbitale Per favore Eccolo Eccolo Inattivo Come inattivo Zio l'ho pagato un milione di dollari Mi dice che è inattivo Oh t'ammazzo T'ammazzo Mi parte la vena di cui parlavo prima Posso usarlo? Come funziona? Oddio come funziona? Posso saltarci sopra? Inattivo Inattivo Ammazzo Come si fa? All'improvviso è uscito il tastettino Ah no Ok c'è il tasto di controllo qua Come funziona? C'è c'è una visuale satellitare? Oh Cosa? Cosa? Scusate la voce acuta? Ma per sparare un missile costa mezzo Mezzo milione di dollari? Per un missile? Ma voi siete scemi forte Ma chi le compra ste cose? Io non ho di sicuro Oddio forse uno potrei provarlo No 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 Sorveglianza è gratis Sorveglianza è gratis Sorveglianza è gratis Almeno questo Essere figo è figo Almeno c'ho le robe satellitari Che ansia Che ansia incredibile Posso zoomare? Posso zoomare? Che c'è qui? C'è qualcuno? Posso premere una X? Posso fare qualcosa? Non posso fare niente? Allora è carino perché comunque puoi vedere le robe no? Quindi diciamo che proprio brutto brutto non è Però... È tanto Io pensavo sai un milione Tra i 10 missili Che si ricaccia È un fottio È tantissimo Allora C'è da capire una cosa L'entità del danno Perché io posso colpire qualsiasi cosa da quello che ho capito Però se poi non esplode davvero Ecco Ad esempio qui dicevo Questo dovrebbe essere il mio ufficio O questo O questo Forse è questo Mezzo milione di dollari Mamma mia Posso colpire il ponte? Allora Raga io vi dico Cioè Proviamo Premo barra spassatrice Che è successo? È tutto nero all'improvviso Ah no Mi fa tornare Appuntamento Appuntamento automatico Costa 250.000 dollari in più No no Faccio appuntamento manuale Compra quest'opzione Sì Mamma mia Mortacci mia ragazzi Mezzo milione ho speso Appuntamento manuale E col tasto sinistro sparo Ma che sparo poi? Cosa? Sparo qui Perché ci sono delle robe verdi poi? Allora devo cercare su Google perché ho paura di fare una cagata e spegare mezzo milione Ok quindi non distruggo la mappa Al momento devo Sparare e sperare di fare qualcosa Io non so se questa roba verde è effettivamente un giocatore oppure no Allora cerchiamo un giocatore verde Se lo ammazzo mi da un achievement Allora sì sono giocatori Sono giocatori Allora prendiamo quello che è fermo Così Scusa almeno non lo spreco i soldi C'è scritto che se lo manco Mi li dai soldi Quindi ok Sparo Ad ottenere premuto 3,2,1 Ti prego fa che ci sia almeno una bella animazione Che è successo? Ho sparato? Ho sparato? Si è bloccato tutto Eh ma non posso fare niente più Ora non posso per altri 48 minuti Cioè per un giorno intero di GTA Mai non ho capito cosa ho fatto Contro il cellulare per subito Eh ma non è successo niente Scusa ma Chi me l'ha fatto fare? Eh? No una piccola Io mi ammazzo ragazzi Ho appena spiegato un milione e mezzo per cosa? Per niente E ogni volta che spai devi spendere un altro mezzo milione Cioè io Io non Io boh Io Bella merda Ma bella merda davvero Scusa ma fai tipo predator di Call of Duty Fammi vedere il missile che scende e fai qualcosa No Una merda così Mi hai fatto spiegare un milione e mezzo per cosa? Per nulla? Mi sto incazzando? Un milione e mezzo E ne è manco morto il tipo Ancora muoio io Ma porca puttana Oddio che cosa sta succedendo? Perché ci sono quattro versioni di me? E perché posso ucciderle? Oddio Ficchi me stesso Perché cosa? Mori puttana Che fai sono io? Ah le spalle Sè vieni qua Sè Sè Catti Ancora Basta Ah sono morti a prescindere Ah però mi hanno i soldi Mi pesto la sor- Quanti? No oddio raga Oddio Oddio Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ah vaffa culo il milione e mezzo Perché una roba così Cioè vale tutti i soldi nel mondo È una mod Sono i cheat questi Perché sul server online non si possono usare Ma guarda Guarda È vero che così faccio soldi Si non tantissimi ma faccio soldi Perché ogni volta che la mazzurro mi da duemila dollari Guarda c'è la pozza di sangue nono per terra Ma che cosa sta succedendo? Ehi Oh Orca vaca questi mi ammazzano ragazzi Cosa sta succedendo? Combatto contro me stesso ma sono tantissimi A me ragazzi Spariamo un po' a tutti e prendiamoci i soldi Oddio scappi bello Sarei pure me ma No mercy E scappate verso la montagna Siete scemi Andate a balle Così in mezzo secondo sto facendo In realtà Cacchio un botto di soldi Ma è Gesù questo Ma perché fai spawnare Gesù con un mitra poi Oh non mi sparare mica Ma In testa ti ammazzo Cosa la polizia? Perché la polizia? Non c'è nessuno qui che può vedermi Ragazzi ma c'è un botto di soldi Due stelline addirittura Oh Non dimmi che arriva qua la polizia No dai Ok ho depositato i soldi E ora stanno arrivando Le macchine della polizia Cioè ti rendi conto? C'è anche i poliziotti Ora c'ho tre stelle Ma che cosa? Mi ha fatto spawnare una macchina Ma c'ho un angelo che mi sta aiutando o cosa? Ma non capisco O c'è qualcuno che mi sta aspettando tipo Elicottere Ma andate a qua Non mi vedono Sono invisibile dentro questa macchina Che cosa sta succedendo? Che sono invisibile Mi passano attraverso C'è un tipo invisibile che è entrato in macchina Oddio che cosa sta succedendo? Eeeh Ha cambiato quello Zio qua mi bannano Io te lo dico Qua mi bannano Pia la moto scappiamo Quel cosa sta cambiando colore Eeeh Fuck this shit man Fuck this shit Oh my god Fucking hell Sento rumori Ah qua c'è un po' di gente da ammazzare Oiii Buongiorno Oh Mi sa che è invisibile Che mortale tipo Non lo so Non c'è più polizia All'improvviso non c'è più polizia Ma in questa sessione siamo in tantissimi Che cosa sta succedendo? Sento i rumori del tipo come se fosse dentro di me Ma non lo vedo Oh ragazzi un hacker così interattivo non mi era mai capitato eh Devo ammetterlo Ma Oh mi tira i pugni mo All'esbigo Ah mi sta dicendo di scappare Forse Ma ho rubato la moto Oh La moto E' la mia moto quella Ma vuoi investire con la mia stessa moto ma sei un buffo Ma che raga Ma che cosa sta succedendo Ma io non capisco Cioè comunque è casa mia Oh è la mia moto Perché vuoi investire? Non ti faccio niente Voglio investire ma non ce la fa Ma ce l'ha con me la polizia? Ma ammazza la polizia zio non ammazzare me Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa sta succedendo? Non posso neanche sparare così Eh vabbè ma lui salta Gesù Cosa posso fare contro Gesù? Ehi Ehi No no le granate no Dillo che sei stronzo però Ma che cosa sta succedendo Che cosa? Non sapevo ci fossero i cinghiali Eccolo il cinghiale alla carica che arriva vai vai Posso andare sulla moto? Cacchio raga Ora volo Sono una palla volante Non dovrei ridere così tanto Però fa ridere Cosa sta succedendo? E niente ragazzi Per questo video Penso possa essere tutto Anche perché il tipo mi ha abbandonato A me stesso Sono una palla gigante Penso che questa sia una cosa abbastanza divertente Il vero Io vi saluto Vi ringrazio tantissimo per la visione Ci vediamo in un prossimo video Ehhh Sì Ciao atturbo Non ce l'ho Non ce l'ho Pesso di averlo Ciao a tutti Ciao atturbo tutti Grazie a tutti